Altri 11 pazienti positivi, 1.091 tamponi, 4 decessi e 120 guariti in più. E questo il bilancio relativo alla diffusione del coronavirus in Puglia, aggiornato ad oggi, lunedì 25 maggio, sulla base di quanto comunicato nel bollettino giornaliero della regione. Nove degli ultimi contagi accertati si riferiscono alla provincia di Bari, che si conferma sempre la più colpita, con un totale di 1.474 casi complessivi, tra pazienti attualmente malati, guariti e deceduti. Altri due infetti si registrano invece nel territorio di Taranto, mentre per tutte le altre province il bollettino segna zero nuovi casi. In particolare nella BAT non si contano ulteriori positivi da cinque giorni consecutivi. Ma la sesta provincia tuttavia fa registrare il peggior incremento giornaliero di decessi con altre tre vittime nelle ultime 24 ore. Un'altra è stata accertata invece nella provincia di Foggia, per un totale di 492 morti in Puglia dall'inizio della crisi sanitaria. Si conferma in calo, fortunatamente, il numero dei pazienti positivi, che scende a quota 1.678, ieri erano 1.793. Tra gli attuali malati, 205 sono ricoverati in ospedale, di cui solo 15 in terapia intensiva, mentre tutti gli altri si trovano invece in isolamento domiciliare. E migliora giorno dopo giorno, infine, anche il dato riferito ai guariti, che diventano in tutto 2.298 da quando è cominciata l'emergenza Covid-19. Solo nelle ultime 24 ore altri 120 pugliesi sono riusciti a sconfiggere la malattia.